Hola Luciadores e Sciupatori di Pasciuti a Pasci in Peluche Ben ritrovati dal vostro Silver, qui con Silverius su Dark Souls 2 Scholar of the First Seen Come vedete mi sono rimaste 5 animelle perché ho progredito anche nell'acquisto delle frecce di legno Visto che abbiamo l'arco, usemolo E adesso ci facciamo una bella gitazza Dove andremo a finire? Molto semplice, andremo avanti nella zona dei boschi ombrosi Partendo appunto dalle rovine buie per andare avanti Andremo a parlare con Tarkus Giusto si chiama Tarkus, l'uomo scorpione Quello che vuol far fuori la moglie prima della sua osera, qualcosa del genere E poi proseguiremo verso le rovine di Farros Perché abbiamo un gran bisogno di servigi, di Gavlan Per progredire serenamente tra l'allero e tra l'allà Allora, ricordiamoci che ci sono questi fantasmermi farsi in giro E che, essendo fantasmermi, non patiscono del discorso dell'equilibrio Forse è meglio ritornare con l'aceta che ha più mobilità fra i muri Allora, mi sovviene anche di guardare una cosuccia bella, bella e saporita Non vorrei far cagate Infatti abbiamo un solo rametto profumato del passato Quindi dobbiamo utilizzarlo con parsimonia e pinsimonia Quindi direi di tralasciare momentaneamente lo scrigno Invece siamo subito Quello scrigno l'ha occluso, per usare un termine molto colorito Dal tizio pietrificato E cercheremo di entrare In combutta con queste cose No, 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 maledirmi Maledizione, mi hanno maledetto sti maledetti Scommetto che sono i vaselli del piano di sotto Eccolo E' lui colpevole di tutto quanto Grazie, grazie Ti voglio bene Beh, pietra di faro Aia, porca Caccia la pupazza Ok Cosa ho appena detto riguardo al ricordarsi di non dimenticarsi dei Ecco Sarà un parto Ma veramente Perché Non sono molto propenso a ricordarmi Della loro esistenza Facciamo che Già che siamo in giro Visto che l'anello della coloranza ci serve a gran pueco Equipaggiamo subito quello dei sussurri Disequipaggiamo i guanti per stare sotto il 50 E attenzione I fantasmi non emettono nemmeno suoni Bene Fantastico Very good, very nice Non avrei potuto desiderare di meglio Porca Eva E voi mi dite Equipaggati qualcosa che ti protegga da maledizione Giusto Giusto Vediamo se riusciamo a rallentare Maledizione con qualcosa Anche perché questo protezione maledizione 0 Ok 10 è meglio di 0 26 è meglio di Ho tenuto per tutto il gioco Questo set qui E per una volta che lo cambio torna a essere il set migliore Non cambia a gran tanto Però piuttosto che niente Meglio piuttosto Ma vedo che a quanto pare Diciamo a farci maledire sapientemente lo stesso Ok Stavolta ti abbiamo reso pan per focaccia Caro il mio socio invisibile Eh no Eh no Grazie Basta Basta Abbiamo già dato Allora Direi che Possiamo sprecarci Bellamente una gemmina E vediamo un po' cosa ci attende qui attorno Ok almeno Tarkus ancora c'è Che pessima mira Andiamo di individuare eventuali fantasmoidi Vieni qui lucertoli Sì Of course Sto provando dell'odio atavico contro chi piazza le lucertoline No tu sei un fantasma fantasma Sì Bello Molto bello tutto quanto Ok Falcia oscurità Qui non mi sembra di vederci fantasmozzi Almeno per ora Però confermo che ci sto provando parecchio odio Allora Vediamo di fare una cosina prima di dimenticarci No non posso passare di lì Devo scendere Vabbè che tanto non ho paura di lui Non vorrei più che altro che comparisse qualche fantasmino Che ci costringesse alla battaglia E finire col fare a botte davanti a lui Che sarebbe poco conveniente Ci parliamo fra un attimo con te Ok Avremo bisogno di un secchio di rametti profumati del passato Bene Perfetto Megoglioni Progressione a livelli zero proprio Eh? Non ti sei neanche degnato di svegliarti? No Ok Eh sì Sono più bello Più affascinante Sappiamo benissimo che Queste cose alludono un po' a sete senza scaglie Anche se un riferimento al duca Di Zeldora Che troveremo giù nelle miniere C'è Vabbè ma vi ho detto più avanti Che vi dirò questa cosa Me la tengo per me per ora Perché è divertente Voglio lasciarvi un piccolo senno di curiosità Allora È un tributo eh Vi dico questo Il duca è un tributo Ma non a sete senza scaglie Non vi dirò la mia deduzione Ok Perfetto Tark Non Tarkus Perché ero convinto Tarkus? Tarkus è ferro nero Povero Silver Stai invecchiendo Stai perdendo i colpi Allora Vediamo Da quale maialissimissimo Altro fantasma Possiamo farci Aprire le saporite chiappette Allora Innanzitutto Equipaggiamo di nuovo La spada infuocata Dell'infuo cacchio Cos'è che c'ha? C'è ancora un Del vasellame Malvagio in giro Non ho ben capito Non ho ben capito Cosa ci maledica A quel punto Scusate Lo so che Sono pedante Ma O abbiamo lasciato Per fortuna Che mi è venuto da tornare indietro Sai mai Che ci rimettevo 455 anime Ah Vecchia Ok Va bene Stavo dicendo Vecchia anche Vanfora Scoreggiona Ma Sappiamo Non essere poi Tanto vecchia Allora Allora Andando con la debita cautela Lì cosa ci troveremo In mezzo a tutti quei Bausciosissimi barili Fantasmi Fantasmi ovviamente No 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 Niente fantasmi Astrogiro Benissimo È già qualcosa Potendo scegliere Preferisco Vedere Il coloro Con cui Ho a che fare Anche Perché è sempre bello Aprire Delle scatole Di mangine Per leoni E scoprire Di non essere Noi suddetto Mangine Ok Lì sopra C'è un oggettino Simpaticoso Un altro Arametto Profumetto Del passato Puri lì Abbiamo Tanti di quelle Pietre di Paros Da Faros O Paros Da Aprire un negozio Di pietre di Faros Ok Va bene Porco cazzo È vero Lui è Dotato di Provvedimenti Antimagia Vieni 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 Bravissimo Bravissimo Ok Dai Ok Mannaggia Scusa Scusa Porca Cazzozza Eh Fì Sì Ok Va bene Voi fate finta Che io non l'abbia fatto Fate assolutamente Finta Che non l'abbia fatto Ah Vergogna Vergogna E ludibrio Che scendano su di me Devo essere punito Per queste cose Allora Adesso andiamo Un filino più Snelli E sicuri E stavo appunto Riflettendo sulla quantità Abnorme di pietra di Faros Che abbiamo Trovato Allora Mi viene da pensare Che tutte quelle cose Di Faros Che troveremo A Faros E che cazzarola No buono eh No buono Stavo dicendo Tutte quelle cose Di Faros Che troveremo A Faros Giusto appunto Stavo parlando Ma basta E che cazzarola Oh Due fiaschette Estus Dal falò A qui Mamma mia Tutto perché Stavo cercando Di fare un discorso Ehm Questo mi fa pensare Che tutte le trappole Di Faros Che non avevano Un significato Vero e proprio Nascondano qualcosa Di interessante A questo giro Ok Vieni vieni Bel micione Ok Vieni via No Ok Sì Ci piace Ci piace Smicionare Micioni Ok Perfia E quindi Potremmo trovare Un sacco Secondo me Di rametti Profumati Del passato Perché obiettivamente Ne servono Troppi Qui ne servono Troppi Anche per cose Tecnicamente Che possono risultare Inutili Quindi Poco plausibili Vediamo se riusciamo Non ho avuto Non ho avuto la prontezza Di riflessi Di scappare E di nuovo Ci facciamo Coticchiare Leggermente Dal signor Leone Capobastone Qui Ok Ok Venga 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 Dottor Aio Lei fa del male Del male gratuito Tra l'altro E non vorrei Suscitarle antipatia Via Un colpo E via Ragazzi Un colpo E via Silvanaccio Un colpo E via Uno E via Uno E via Recupero Stamina Ok E via Voilà Due colpi Solo stavolta Perché Ciccio Pasticcio Stava per morire E non ci droppa Una secchia Di nulla Quindi Tutto sto Scassamento Di Wallera Assolutamente Per niente Bene Armatura Ad ogni modo Stragoneria O qualcosa di notevole Quindi fallo Perfetto Quindi sappiamo Che quello che droppa È lui Benissimo Però non possiamo Ancora permettercelo No Qui non c'è niente Non possiamo Ancora permettercelo Vabbè No 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 Ma fanno male Tutti uguale Sì Sto sprecando Fiale Estus Fiasche Estus In maniera Vergognevole Però Vabbè È una volta Ripulita Sta zona Abbiamo quasi finito Ci occuperemo Di tornare Al falò E buonanotte Al secchio I muri sono magnetici Calamitano Gli avversari Contro se stessi E Volete vedere Che prima o poi In un impeto di gioia Spaccherò Una botte Con dentro Un avversario E andrò a Sbaucharmelo In faccia Oh Hanno Coperto la trappola Più ancora In maniera Trappolosa Fico Forte Mi piace Grazie Ok Te Se non ti offendi Grazie Guarda Sei arrivato Proprio Sulla fine Del video Proprio Sei gradevole Come Un rametto Di rosmarino Nel culo Oh Va che bello Benissimo Adoro Quando vengo Attaccato dai fantasmi Mentre sto parlando Ci ciucciamo Una bella Boccetta Di Estus Tiriamo Una frecciazza Qui 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 Ma Parca Di quella Oh Grazie Ora siamo Tutti più sereni E nel prossimo video Andremo a raccattare Quell'oggettino In modo da far Saltar fuori Quel fantasmino Che vedete Là sopra Che ci sta aspettando Con sommagioia Gaudio E ludibrio Appunto Come dicevamo prima Benissimo Fanciullini Ci vediamo Nel prossimo video E Vabbè Perdonatemi Se muoio Come uno stolto Mea culpa Ciao ciao